Anche un altro tifoso dell'Inter cade, cade nelle notizie, cade nelle situazioni che si sono create all'interno delle ultime ore. Intervenuta la guardia di finanza perché è successo un casino nelle ultime ore per quanto riguarda la Serie A e per quanto riguarda ovviamente anche gli arbitri italiani. In particolare un arbitro italiano tifoso palesemente dell'Inter, visto l'amicizia clamorosa che lui ha con Marotta, visto la sua presenza all'interno della curva dell'Inter sistematicamente, più volte è stato fotografato all'interno di quella curva. Bene, vi leggo un articolo che è uscito proprio stamattina, eccolo qui, lo vedete inquadrato, fra poco ve lo faccio vedere e ragazzi ne parliamo insieme perché sta intervenendo la legge ed è una cosa veramente molto 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 grave. Questa è una cosa che davvero potrebbe rappresentare un aiuto per tutti noi, ma vi spiego fra poco perché ragazzi, fra pochissimo, fra pochissimo, fra poco. Prima di iniziare tre cose molto semplici, iscrizioni, solito like, solita campanellina, ovviamente sempre delle notifiche per rimanere sempre aggiornate, mi raccomando ragazzi è veramente molto importante. Vi ricordo che se voi ovviamente non attivate la solita campanellina delle notifiche non vi arrivano praticamente mai i video, fra l'altro escono contenuti nuovi tutti i giorni e se vi va potete ovviamente anche seguirmi all'interno dei miei soci. Allora, arbitri italiani, soldi evasi, quindi c'è anche Rocchi, evasione a decine, multe pesanti, indagine della guardia di finanza, il disegnatore di A e B è orsato, i nomi più pesanti. Voi sapete che Rocchi ormai è un interista, è proprio dichiarato ormai, è inutile che lui nasconde le cose, viene pizzicato in curva a San Siro a vedere le partite dell'Inter con Marotta al fianco, tutti amici sono, sono tutti amici. Ma andiamo a leggere l'articolo. Come riporta l'edizione odierna della Repubblica, oltre 50 arbitri italiani sono finiti nel mirino del fisco per avere vaso le tasse sui pagamenti UEFA. Fra i nomi più altisonanti, l'attuale designatore della Lega A e B, Gianluca Rocchi, è il record man di presenza in Champions League, Daniele Orsato, ritiratosi lo scorso agosto. Gli accertamenti sono partiti nella primavera del 2023 a seguito di un dettagliato esposto presentato alla Guardia di Finanza, secondo cui nel periodo compreso fra il 2018 e il 2022, una cinquantina tra direttori di gara e assistenti non avrebbe dichiarato i compensi ricevuti dalla UEFA che sarebbero un minimo di 8.000 euro a incontro. Acquisiti gli elenchi completi nella sede dell'AIA, l'inchiesta si è poi allargata ai comandi regionali per effettuare delle verifiche incrociate che si sono estese anche agli arbitri internazionali di calcio a 5 e ovviamente anche agli addetti al VAR e a VAR, l'assistente del VAR. Alcuni avrebbero addirittura ricevuto somme di denaro su conti esteri, ma in ogni caso si tratta di cifre inferiori ai 100.000 euro, limite massimo per non far scattare le sanzioni penali. Ho chiuso tutte le pendenze, si era trattato di un disguido, spiega Gianluca Rocchi, mentre il suo avvocato Roberto Cordeiro Guerra precisa un errore dovuto a norme non chiarissime. Da subito il mio assistito ha desiderato regolarizzare la sua posizione attraverso il cosiddetto ravvedimento operoso. Nessun commento invece da parte di Daniele Orsato. L'inchiesta è rimasta segreta in quanto avrebbe potuto avere delle ricadute importanti sulle carriere dei protagonisti coinvolti. Una volta emerse le violazioni fiscali si prevedono sanzioni disciplinari pesanti da parte della Procura Federale della FIGC. Allora, la Procura Federale della FIGC si trova di fronte adesso ad una situazione molto particolare. Il designatore principale degli arbitri, che è Gianluca Rocchi, avrebbe fatto reato. Ora che sia consapevole o inconsapevole, io non possiamo ovviamente saperlo, fatto sta che Rocchi non ha dichiarato alcune cifre ricevute nel corso degli scorsi anni. Quindi deve avere una sanzione che, mi auguro, non sia solo economica. Cioè, non è che la Procura Federale adesso se ne esce fuori dicendo «Rocchi deve pagare una multa di 5.000 euro, perché Rocchi 5.000 euro ce li ha in tasca». Quello che vogliamo vedere è un cambiamento a livello generale. Cioè, noi abbiamo una federazione amica dell'Inter, chiaro come il sole. Rocchi stesso, ti ripeto, pizzicato più volte con Marotta, con gli amici di Marotta, sempre così. Sempre così. Questi sono coloro che ogni settimana fanno cacciara, cioè fanno casino. Gli arbitri italiani sono fra i peggiori, secondo me, attualmente in Europa. Perché io ti faccio un esempio molto semplice. Tu hai il VAR, che è uno strumento importante, ma secondo me un po' eccessivo nelle scelte. Anche con il VAR crei problemi. Vuol dire che sei proprio stupido. Cioè, se anche con il VAR tu non riesci a prendere una direzione arbitrale normale, evidentemente sei proprio stupido. Rocchi stesso, secondo me, non è molto intelligente a livello proprio di scelta degli arbitri. Perché Rocchi è l'unico della terra che fa quello che gli pare dentro la procura. Cioè, Rocchi sta lì, sceglie di amarla con gli amici, ha rapporti stretti con Marotta, con l'Inter, tutto normale. E ora si viene a scoprire che ha commesso reato. Lui in un modo, quello in un altro. Noi abbiamo praticamente un sacco di gente lì che commette reato in continuazione. Allora, che ne dite se noi sostituiamo Rocchi alla designazione? In modo che subentra qualcun altro che forse è un po' meglio di Rocchi. Perché Rocchi negli ultimi anni ha creato solo... Cioè, le squadre lo odiano tutti. Non c'è una squadra che ami Rocchi attualmente. Non c'è solo una che ama Rocchi. Quella che vi ho detto prima. Per il resto, le altre squadre di Serie A odiano Rocchi profondamente. Perché ogni volta è un casino. Non è capace di svolgere questo ruolo. Lo possiamo dire? Non ti sto mica a dire cose gravissime. Ti sto dicendo la verità. Ma perché un arbitro che tutte le settimane ha un problema? È un arbitro competente? Tutte le settimane questo ha un problema. Tutte le settimane. Tutte le settimane ha un problema. Io trovo che sia veramente indecente. Indecente. Trovo che sia grave il fatto che ci siano delle persone come Rocchi nel calcio italiano. Cioè, per me è roba da prendere e da chiamare la polizia e i carabinieri. Capite qual è il discorso? È vergognoso il fatto che un soggetto come Rocchi sia oggi a capo di questo aspetto. Cioè, è proprio fuori dal normale. Ma oltre al discorso relativo al modo di lavorare. Lascia perdere perché là proprio non sa fare nulla. E quello si è capito perfettamente che si vede tutti i danni. Che poi tutti i casini che fa se è visto. Ma anche a livello adesso di immagine. Che figura ci fai? L'arbitro che non ha pagato le tasse con i compensi. Ma che figura è, ragazzi? Va sostituito. Va sostituito subito. Immediatamente. Così forse si cambia anche un po' qualcosa. E la finiamo di avere aiuti costanti a determinati soggetti. Capite qual è il discorso? Fuori? Fuori pure te. Fuori. Una volta fuori. È il momento che vada fuori. Perché Rocchi so' anni che non riesce a fare il suo lavoro decentemente. Anni. Anni che non è chiaro nel suo lavoro. Capito? Questo è un modo poi, vabbè, personalmente con un altro discorso. Nel senso che lui ha fatto sto casino, vabbè. Però comunque anche a livello di competenza. Lascia perdere perché Rocchi è un incapace. Rocchi nel suo lavoro non è competente. Non è capace di essere competente nel suo lavoro. Ma perché dobbiamo negare l'evidenza? Perché noi dobbiamo negare l'evidenza? Cioè io questo mi domando e dico. Perché continuare a negare l'evidenza in continuazione su una cosa di cui si è parlato per anni. Cioè questo non è capace di fare sto lavoro. Adesso è il momento giusto per sostituirlo e mandarlo fuori. Questo è il momento giusto. Non dopo. Questo. Perché un arbitro che fa tutto quello che ha fatto Rocchi, anche le amicizie che ha con Beppone nostro, non è normale. Cioè ma è normale che un arbitro si fa vedere a cena fuori dagli stati con Marò. Ma stiamo scherzando ragazzi? Ma dove siamo finiti? Ma dove siamo finiti? Così proprio con una maleducazione gratuita. Proprio così, senza un sistema di intelligenza, senza una capacità tecnica, senza niente. Ma cena con gli amici nostri, capito? Tanto Marotta, tanto quell'altro, tanto quest'altro. Sta sempre così stando. Allora se un interista se ne va è meglio. Perché se lui è palesemente tifoso... Guarda se sei tifoso dell'Inter sei amico loro, quindi è peggio ancora. Comunque sei in una posizione... È sbagliato che tu ci sia. Capite qual è il discorso? È sbagliato che tu ci sia. Questo ti sto dicendo. È sbagliato che tu ci sia. Quindi mi auguro che questo sia il modo per andare a capire che effettivamente... No. Guarda, che venga sostituito. Mi auguro veramente che venga sostituito. Voglio sapere un pochino di capire un pochino cosa... Cosa... Voglio sapere. Voglio sapere che cosa ne pensate voi di questa cosa. Voglio pensare che cosa ne pensate voi di questa cosa. Fatemi sapere un pochino nei commenti cosa dite. Cosa ne pensate.